Salvatete e bentornati in questo nuovo video, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come aggiornare così il chipset driver DMD della propria scheda madre quindi in questo caso questo chipset ha la funzione, una buona funzione soprattutto su cavi USB, scheda diritto tutto quello che colleghi alla tua scheda madre quindi in questo caso questo driver è molto importante per la tua scheda quindi in questo caso prima di andare a scaricare così il chipset come puoi vedere questo qua è AMD Chipset Driver da scaricare e installare quindi hanno rilasciato questa versione, l'ultima versione quest'anno quindi io l'ho già scaricato e installato sulla mia scheda madre quindi è facilissimo, scarichi, installi e hai fatto, una volta fatto poi devi riavviare il sistema operativo quindi in questo caso andiamo prima su System Information per vedere che tipo di scheda madre hai nel computer quindi prodotto scheda di base B450 Gaming Plus Max, io ho questa scheda madre in descrizione non ho lasciato nessun link perché ognuno ha una scheda madre diversa quindi tu devi cercare la tua scheda madre, andare su un browser o su un sito qualunque quindi un motore di ricerca e scrivi così la tua scheda madre io vado a scrivere la mia B450 Gaming Plus ti uscirà per forza un'interfaccia tipo del genere così se hai MSI dovrebbe uscirti un'interfaccia così vai direttamente su specifiche anzi su supporto vai su driver ed eccoli qua System Chipset Driver questo devi scaricare se ti può interessare c'è pure quello per la LAN driver se non ti funziona il cavo Ethernet quello per l'audio per i SATA è VGA Drivers AMT Graphics Drivers quindi in questo caso io vado a scaricare questo Chipset questo lo posso pure cancellare ho questo qua tasto destro sopra e devi estrarre il pacchetto con Winrar quindi estrai i file in AMD Chipset estrai ti uscirà la cartella entri nella cartella e ci clicchi sopra e installi aspetti l'estrazione aspetti quello che ti dice quindi puoi anche personalizzare l'installazione io ho installato tutto veramente tutto sono andato avanti ho riavviato il computer quindi controllo in corso per verificare che l'hardware del PC sia compatibile con i driver quindi se non è compatibile non puoi installare ed ecco qua quindi tu tieni così com'è fai installa farà l'installazione come ho detto ho già installato tutto installi e una volta fatto qua ti dirà riavvia riavvia il sistema hai fatto per altri problemi ancora puoi commentare su utilizzerò altre guide riguardo questa questa AMD Chipset driver quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao